Si distingue per efficacia ed adeguatezza l'attività di prevenzione e cura del tumore al seno della ASL 2 Chieti Lanciano Vasto. Non solo strumenti di ricerca ma anche modelli organizzativi dimostrano grande appropriatezza come spiegato oggi nell'ambito della campagna di comunicazione I Trust You, mi fido di voi, promossa dalla casa farmaceutica Roche. È la breast unit ovvero l'unità senologica con alte professionalità specialistiche, radiologo, anatomopatologo, chirurgo, radiologo, radioterapista che seguiranno la paziente dalla diagnosi fino alla guarigione. Un modo di lavorare meglio e una maggiore garanzia che la paziente abbia sicuramente nel singolo caso il miglior trattamento possibile. La paziente viene seguita dal momento della diagnosi fino alla guarigione auspicata? Assolutamente sì, proprio questa è la novità mentre prima la paziente vedeva magari 4-5 specialisti diversi, momenti diversi con difficoltà organizzative anche importanti. Nella breast unit è tutto organizzato all'inizio, diciamo la paziente ha un suo iter terapeutico, sono sempre gli stessi medici o specialisti o radiologi per esempio che la seguono e quindi diciamo tutto programmato e sente anche lei più tranquilla proprio per questa sicurezza che si dà al primo momento che entra nella breast unit. Non è solo la fase della prevenzione, il direttore sanitario della ASLA, Medeo Budassi, ricorda le campagne della regione Abruzzo, senosano, screening per il cervico carcinoma e colon rettale. L'importanza della diagnostica per immagini per esempio affianca fondamentalmente la mammografia. Sono tanti gli strumenti diagnostici e curativi, ricorda il professor Zavattaro, direttore generale della ASLA 2, e il medico, meglio l'equip di medici, che deve scegliere le cure più opportune o adeguate al singolo caso. determinante però è il rapporto fiduciario da instaurare con il paziente. Fidarsi del medico significa anche resistere alle mode curative spesso diffuse con superficialità dai media, inefficaci talvolta e comunque costose per il sistema sanitario. La fiducia il medico lo tiene anche attraverso l'informazione costante al paziente. Ne è convinto il professor Ettore Cianchetti, direttore dell'unità operativa di chirurgia a indirizzo senologico dell'ospedale Barnabeo di Ortona. L'atteggiamento terapeutico al cancro della mammella negli ultimi 30 anni è cambiato notevolmente. Prima c'era solo il chirurgo, operava, dopodiché non c'era nient'altro da fare, i pazienti venivano lasciati a se stessi. E il problema è che poi troviamo anche dei tumori estremamente grossi, per cui l'intervento era sempre un intervento demolitivo. Le cose per fortuna sono cambiate, sappiamo tanto di più su questa malattia, per cui non c'è più solo il chirurgo che tratta questa malattia, ma sono anche gli altri esperti, l'oncologo medico, l'atomo patologo diventa sempre più importante, per cui la terapia viene confezionata sulla paziente. Ogni donna, a me piace dire sempre che c'è la donna col tumore da mammella, non il tumore da mammella, perché ogni donna è diversa dall'altra, la terapia va così ritagliata sul caso particolare, per cui sicuramente abbiamo degli ottimi risultati, teniamo presente che oltre il 90% delle donne a 5 anni vivono senza malattia, quindi c'è un attissimo tasso di guarigione e oltre il 70% delle donne guariscono avendo ancora la propria mammella e quindi avendo un assetto fisico più che accettabile. Due aspetti sono fondamentali, uno è il rapporto fiduciario che si deve e si dovrebbe assolutamente instaurare con la paziente e l'altra quella degli step, degli esami, spesso e volentieri si è costretti quasi a migrare tra varie strutture per gli esami. Certamente, quello del rapporto fiduciario medico-paziente dovrebbe essere la base e questa giornata vuole proprio suggellare questo aspetto, diciamo che noi ci riteniamo abbastanza fortunati in quanto le nostre pazienti hanno un'estrema fiducia in tutto il personale della breast unit e giustamente come lei sottolineava questo concetto serve anche a evitare queste dispersioni di energie, di far girare la paziente da una radiologia piuttosto che da un laboratorio di analisi all'altro senza una programmazione, qui è tutto programmato quindi la paziente impiega il minimo del tempo e si sente in buone mani.